In CoStamp non lasciamo nulla al caso. Ogni stampo deve essere il vostro stampo. Tutto comincia quando ci fornite il disegno del pezzo pressofuso. L'ufficio tecnico lo analizza e suggerisce modifiche che ottimizzino la producibilità del componente per migliorare il riempimento delle cavità dello stampo, limitando le porosità, per ottenere una più efficiente tranciabilità del getto, per favorire una più agevole lavorabilità. Lo stampo è modellato intorno al pezzo, utilizzando le versioni aggiornate dei più importanti software presenti sul mercato. Il modello 3D viene poi trattato nel reparto CAM. L'operatore unisce la sua esperienza al risultato del calcolo del software, sfruttando la particolarità di ogni macchina collegata in rete e generando le istruzioni per i percorsi più appropriati. In officina, i componenti prendono forma, passaggio dopo passaggio, ora dopo ora. Ogni blocco e ogni frammento di acciaio diventano prodotto. Dopo la prima fase di sgrossatura, grazie al trattamento termico, l'acciaio ottiene le caratteristiche chimiche e meccaniche prescritte. Seguono tutte le lavorazioni di finitura, con CNC sempre più avanzate. L'assemblaggio rispecchia la precisione e la correttezza con cui sono state svolte le fasi precedenti. Gli operatori verificano che gli accoppiamenti dei vari elementi siano perfetti. Testiamo lo stampo nel nostro reparto fonderia, che ci consente di simulare la produzione seriale in isole completamente automatizzate. Tra una campionatura e l'altra, le nostre presse sono a disposizione per stampare lotti medio-piccoli, serie speciali e prototipali. Il controllo qualità monitora l'intera procedura di costruzione e collaudo. Tutti gli inserti stampati sono comunque sottoposti a scansione laser. La successiva sovrapposizione ai relativi disegni 3D permette di rilevare con grande rapidità eventuali difformità da sistemare in officina. In fonderia, i getti sono controllati utilizzando misurazione 3D e macchine a raggi X in ambienti a temperatura controllata. A voi consegniamo un'attrezzatura pronta per la produzione in serie. Accompagnata da report dettagliati sulle caratteristiche dimensionali e metallurgiche. Everything is possible non è solo il nostro motto. È il nostro modo di affrontare ogni nuova sfida.